Allora, percorro gli ultimi metri del Valico della Scalata, eccolo qui, il Valico della Scalata, 1250, è Basilicata? È un stupendo Borgo di Avriola, il sole splende finalmente, beh, in questo spazio, saluto Borgo di Avriola. Ecco, ciao, al bellissimo Borgo di Avriola. Guardate dove è ubicato, sono nel Borgo di Calvera, qui a dentro, in l'Italia, in Urale, via, a questa casa, mi sembra più grande, l'uomo in ogni anno, Sono in Largo San Nicolo, Largo Marzello, già la ripienissima, fiumava la terra, lo stupendo Borgo di Anzi, sono nel Borgo di Laurenzano, nel panorama, il Borgo di Laurenzano, Il bellissimo Borgo di Valico della Scalata, giungo al Valico della Scalata, il mio arrivo al Borgo di Colleo per Ticara. La valle adiacente al Borgo.